Il 1945 fu lo Stato che nella prospettiva politica della propria continuità contrabbandò una vera e propria restaurazione ammettativa. Dopo una ecurazione di facciata la Costituzione fu quella di richiamare in servizio i prefetti e i questori che erano stati predeli servitori della dittatura. E con tutto come prima la Costituzione fu degradata a norma programmatica e fu un'imposta per rivolare i rapporti con i cittadini delle leggi fasciste varate nel 1931 dal Fredo Rossi, il giurista che costruì le basi giuridiche della lezione fascista. Quando le forze democratiche riuscirono ad impugnarle davanti alla corte costituzionale, il potere, se così dico, non ebbe vergogna. Andò avvocato dello Stato a difendere davanti alla corte, forte il proprio oscuro interesse di utilizzare, anziché le norme della Costituzione, le leggi di pubblica scuolezza per impedire che i cittadini potessero manifestare liberamente il proprio pensiero per rivolirsi e anticipare. Andò avvocato, andò avvocato, andò avvocato.